Confermata la positività al Covid-19 di numerosi migranti ospitati presso il centro di accoglienza straordinaria di Civitella del Tronto, dopo che una segnalazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo aveva evidenziato verosimili casi positivi al coronavirus sui tamponi eseguiti sui migranti provenienti dal Bangladesh e ospitati proprio presso il CAS di Civitella. L'IZS ha ritenuto necessario ripetere gli esami per confermare il dato della prima analisi e intorno alle 15 sono arrivati i risultati definitivi della seconda indagine che hanno confermato la positività al Covid-19 per 24 migranti tra cui 7 minorenni tra i 15 e i 17 anni, tutti asintomatici che attualmente dimorano al CAS di Civitella. I dati sono stati immediatamente comunicati al sindaco, alla prefettura di Teramo e al gestore del centro di accoglienza. La ASL di Teramo dopo i risultati della prima analisi si era già attivata per scongiurare la diffusione del virus sia all'interno del gruppo dei migranti che sugli operatori della struttura di accoglienza e sulla popolazione in generale. Il servizio di igiene e salute pubblica insieme all'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale sono allertati, stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti delle persone positive e l'intera ASL è pronta a gestire i soggetti che dovessero sviluppare sintomi di malattia. È stata programmata per domani l'esecuzione dei tamponi sul personale del CAS anche in considerazione del fatto che per sviluppare la positività al virus occorrono dai 3 ai 5-6 giorni. Va precisato, così come confermato dal gestore del CAS, che il personale della struttura è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme di sicurezza anti-covid e l'intero gruppo di migranti, sin dall'inserimento all'interno della struttura di accoglienza, è posto in isolamento e non ha avuto alcun contatto con l'esterno.